Quinto raduno nazionale a Gubbio delle Lancia d'Epoca e Lancia Delta Integrale organizzato dalla Gubbio Motori che domenica 9 aprile ha chiamato a raccolta tanti appassionati del settore con la possibilità di poter vedere anche pezzi di assoluto pregio con quotazioni sul mercato da capogiro. Quinto raduno nazionale lancia organizzato dalla Gubbio Motori, la prima uscita del 2017, abbiamo portato a Gubbio un bel numero di macchine perché siamo quasi 60 macchine, tutte belle, tutte anche molto importanti, ci sono modelli molto interessanti come la Lancia Aurelia B24, ne è stata venduta una 15 giorni fa a un'asta a 1.500.000 euro, quindi anche macchine importanti. Abbiamo poi Lancia Augusta, Lancia Flaminia, abbiamo Lancia Appia, Fulvia in tutte le varie declinazioni di modelli. Vengo da Terni, questa è la mia Aurelia B24 Spider, guida a destra, una macchina del 1955, insomma oggetto importante. Sono un socio del CAM per il club automoto d'epoca di Perugia e questa mattina sono ospite degli amici della Gubbio Motori con questa macchina che è una Flavia Sport Zagato, una macchina del 1963, è una macchina che Zagato l'ha costruita in tiratura abbastanza limitata, questo è un 1.500 e il 1.500 esattamente ne ha costruiti 101 esemplari, questa è la quarantasettesima dei 101 costruiti. Due gli itinerari, uno per le Lancia Storiche attraverso Semonte, Mocaiana, San Benedetto Vecchio, Pietralunga e Ritorno, l'altro per le Lancia Delta verso la Madonna della Cima, Scheggia, Ponte Riccioli, Cagli, Pietralunga e Ritorno. L'occasione è servita anche per una visita al Museo Ornitologico Silvio Bambini di Pietralunga. Grazie. Grazie a tutti.